Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce il mio nome Rossella Pani, oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana, dal momento in cui la state guardando. Utilizzeremo tre mazzi di carte e suddivideremo la lettura in gruppo A, gruppo B e gruppo C. Vi chiedo durante la preghiera di protezione di chiedere all'Arcangelo Michele, al vostro sacro cuore, qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi e per il vostro massimo bene. Potrebbe essere uno, due o tutti e tre. Iniziamo. Invocco la Divina Presenza di Dio Dea, Onnipotente Padre e Madre, i miei Angeli Custodi, il mio Sé Superiore, gli Angeli Custodi, il Sé Superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono. Invocco Te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, coscienza amicaelica. E con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni. Vi chiedo di sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato, di radicare la nostra energia fino al centro della Madre Terra e di creare uno scudo di protezione completo, impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea, Onnipotente Padre e Madre. Chiedo massima protezione, guida ed assistenza. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie coscienza amicaelica. È fatto, è fatto, è fatto, è così è, così sia. Ora, per sempre e per l'eternità. Iniziamo, gruppo A, la carta d'innocenza. gruppo B, si è girata una carta, scrivi i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti. Vediamo il gruppo C, qual è il messaggio più giusto per queste anime meravigliose, prendi le distanze da questa situazione. vediamo il secondo mazzo. Ok, gruppo A, abbiamo due carte, manifesterai tutto ciò di cui hai bisogno e la tua frequenza e vibrazione si sta innalzando ed elevando. Interessante. Aspettate che qua si sono girate tutte le carte. Ok, vediamo gruppo B. Ecco qua, uscita la carta. Sì, il tuo vero, cioè sì te stesso, praticamente sì te stessa, il tuo vero sé, la parte reale di te. Ok. Ah, perdonatemi, mi sono dimenticata il gruppo C. Gruppo C. Ne sono uscite due anche qui, vediamo un po'. Tutto è sincronico e perfetto nel momento giusto e riprenditi il tuo potere. Ok. Vediamo il gruppo, scusate, gruppo A per il nuovo mazzo di carte. Ok. Gruppo A, abbiamo una nuova opportunità all'orizzonte. Gruppo B, possibile guarigione. Eccola qui, è saltata fuori. Migliora con la musica. Iniziamo col gruppo A. Allora, sei una persona molto pura, sei una persona che ha l'innocenza nell'anima, ma anche la persona di cui hai chiesto consiglio e parere, guida e assistenza, anche questa è una persona pura, innocente e quindi di fiducia. Quindi non dubitare, anima infinita, va bene. Per il gruppo A ci sono nuove lune, veramente, perché c'è una nuova opportunità alle porte che può essere una nuova, o una nuova conoscenza, una nuova relazione, un nuovo lavoro, una nuova opportunità che potrebbe essere cambiare casa, cambiare città. Assolutamente, cogli questa occasione, perché grande abbondanza si sta manifestando nella tua bellissima vita e le tue frequenze e vibrazioni si stanno elevando, si stanno allineando nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi. Quindi assolutamente questa sarà una settimana di manifestazione, una settimana di gioia, di grandi opportunità, di, sapete, anche quelle relazioni che diventano più intense, più vicine, più intime, assolutamente l'energia giusta, quindi apriti a ricevere, perché veramente sei nella direzione giusta, gli angeli sono con te e ti stanno guidando in questa grande nuova opportunità. Bene, passiamo al gruppo B, scrivi i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti, hai bisogno di fare chiarezza dentro di te, perché hai un po' di confusione, la mente dice una cosa, il cuore dice un'altra cosa, devi ascoltare il tuo cuore, devi ascoltare quella voce interiore, quella voce che è molto sottile, il caos della mente non ti permette di fare chiarezza, quindi scrivi i tuoi sentimenti, va bene? I tuoi pensieri, i tuoi sentimenti e poi quando rileggerai tutto quello che andrai a scrivere, vedrai che riuscirai a fare maggiore chiarezza e c'è bisogno di integrità, anima infinita, devi riconnetterti con chi tu sei veramente, nella tua completezza e totalità, anche davanti agli altri. Non devi recitare una parte, non devi indossare una maschera, devi essere te stesso, devi essere te stessa, perché questo porterà all'equilibrio, questo porterà all'armonia, questo porterà alla manifestazione dei tuoi sogni. C'è guarigione, ok? In questa situazione, nelle tue relazioni, nel tuo lavoro, c'è un'energia di guarigione che ti sta avvolgendo, gli angeli della guarigione, l'arcangelo Michele sono al tuo fianco, invoca Michele, invoca le nuove frequenze di luce, chiedi guida ed assistenza per portare equilibrio laddove c'è disequilibrio e per aiutarti a fare chiarezza, per ascoltare il tuo cuore e purificare quei pensieri negativi che ti stanno deviando da quello che è il tuo vero cammino, da quello che è il tuo vero cammino di vita, ok? Bene, gruppo C, è venuto il momento di prendere le distanze da questa situazione. Tu vuoi tanto raggiungere, hai un obiettivo molto preciso e diciamo che la tua anima e il tuo set ti stanno guidando nella direzione giusta, però sei un po', vorresti tutto e subito e ci sono delle tempistiche divine da rispettare, quindi devi avere rispetto di tutto questo. Tutto è sincronico e perfetto nel momento giusto, nel posto giusto, diciamo che è venuto il momento di agire, questo sì, e l'arcangelo Michele ti aiuterà passo dopo passo, quindi lascia che arrivi tutto spontaneamente nel momento in cui ti sentirei guidata l'azione, agisci di conseguenza e vedrai che tutto si allinea. Diciamo che tu vorresti chiedere aiuto all'esterno ed è giusto quando non hai le conoscenze giuste, le competenze giuste di chiedere aiuto, però non permetterà niente a nessuno di drenarti, di rubarti l'energia, di rubarti il tuo pieno potere. Riprendi indietro il tuo potere, va bene? Perché sei un'anima di luce, sei un'anima antica, sei un'anima grande, sei un'anima evoluta e hai grandi possibilità di migliorare te stesso, la tua situazione, la tua vita, le tue relazioni, i tuoi risultati nel tuo lavoro e nella tua missione di vita. Diciamo che ascolta più musica, ascoltala perché questa musica ti porterà gioia, ti porterà bellezza, grandezza, miracoli infiniti perché la musica guarisce, la musica ti riconnette. Magari per alcuni di voi è importante durante la meditazione mettere della musica angelica o della musica 432 Hz per aiutarti durante il processo di riconnessione con la tua anima e con il tuo vero sé. Per alcuni si intende mettere musica dance, musica ballabile, hai bisogno anche di riconnetterti con la tua anima anche attraverso la danza, o hai bisogno magari di cantare a scorciagola, hai proprio bisogno di staccare un po' dal caos, va bene? E di riprendere il tuo potere, di staccarti e di lasciare che sia perché tutto si sta manifestando nel momento e nel posto giusto. Bene anime infinite, per questa settimana abbiamo concluso la nostra lettura, mi sono dimenticata di prendere il libro da cui leggo i messaggi, io chiedo all'arcangelo Michele, guida d'assistenza affinché possa arrivare il messaggio più giusto per il maggior numero di persone possibili. Abbassa la guardia, troppa difesa potrebbe irrigidire la situazione, occorre lasciarsi andare, avere fiducia nel prossimo, mostrare il proprio vero volto senza nascondersi dietro lo scudo. Bellissimo, bellissimo, assolutamente bellissimo questo messaggio. Anime infinite, ci sentiamo settimana prossima, se volete fare delle letture angeliche con me, o fare dei percorsi di coaching, diciamo io prendo poche persone, quindi contattatemi per vedere se c'è posto, c'è qualche posto per questo fine mese di ottobre, magari potete già prenotare per il mese di novembre. Il corso di connessioni angeliche per imparare a connettersi con gli angeli inizierà il 15 di dicembre, mentre il corso online per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce ci saranno due classi per novembre, una è il 12 novembre e l'altra il 15 novembre. Quindi non esitate a contattarmi, c'è ancora posto, vi abbraccio, a presto. Un bacione, ciao ragazzi, ciao ragazze.